Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano, primo weekend di marzo che inizierà con tempo perturbato sull'Italia a causa del transito di una serie di impulsi atlantici che ci terranno compagnia anche per gran parte della prossima settimana. Il motore di tutto ciò lo ritroviamo tra Atlantico ed Europa Occidentale dove persisterà una vasta e profonda struttura depressionaria con valore al suolo fino a 985 etto Pascal. Sabato che vedrà tempo instabile soprattutto a nord-est lungo le regioni tirreniche con fenomeni più intensi su Liguria orientale, Toscana, Campania e Alta Calabria. Più stabile invece domenica ma con molte nubi in transito, tempo perturbato sulla Sardegna con piogge anche intense e dalla sera peggioramento in arrivo ad iniziare da nord-ovest in regioni tirreniche centrali. Le temperature oscilleranno intorno alle medie del periodo, con clima comunque decisamente meno freddo rispetto a quello dei giorni scorsi. Per tutti i dettagli seguite allora le previsioni aggiornate sul nostro sito o sul nostro canale YouTube. Un buon weekend da parte del Centro Meteo Italiano.